Vuole leggere questa frase? In que tan macro stark parsing lo scrot faine caserte maio strom presete. Che significa? Non lo so. Non lo sa? Io non sono un filologo, sono un laureato in medicina. In tal caso le dirò, professor Borg, che là sopra c'è scritto quello che è il primo dovere di un medico. Lei almeno lo sa qual è il primo dovere di un medico? Sì, certo. Mi lasci riflettere un momento. Rifletta pure. Il dovere di un medico? Il primo dovere è quello... Che strano, non lo ricordo più. Il primo dovere di un medico è di chiedere perdono. Ah, già. È vero, è vero. Questo è il primo dovere. Eh, 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 eh.